signori buongiorno buonasera buonanotte però se ci fai a casa vai tutto coso pure si milla è bellissimo mi sono commosso questo era il periodo degli auristi adesso è morto che è 30 flyer amore da me devi far vedere quella cosa amore sei prezioso non voglio far sapere nessuno subito da poveri tu si fai a mano tutti i tuoi flyer hanno trovato affittammi una fummina cercale eh volete anche un flyer a tutti i comandbi sono scambiato le semafro secondo me rimanente a colpa aerea che è ammazzata rimanente il capitano che vuole uscire Ma che è? Tu devi proprio fare arrivare. Chi è? Ma come è strano? Maria, come è? Non devi prendere il giro? Non ti manca pettinare. Che vittoria, signori! Che vittoria, mamma mia! Doni, mi manda per posto. Doni, mi manda per posto. Mandami qui la che sto qui e coccorronato a ballerle pure. Ma rimane, Doni, rimane un coppo contatto.